È difficile pensare di poter dare un grande contributo per rendere migliore il Milano. Forse il piccolo contributo che posso portare è per una Milano che deve essere sempre un motore dell'innovazione, di idee e di soluzioni tecnologiche, stimolando da un lato i giovani talenti a diventare nuovi imprenditori di domanda e dall'altro Milano essere sempre ricettiva di tale innovazione. Ci vuole ancora più coraggio due progetti. Uno per valorizzare il DNA tecnologico di Milano e quindi un grande progetto di mobilità basato su nuove tecnologie 5G. L'altro per far emergere le energie sociali interne che ci sono nei milanesi e quindi un progetto pubblico e privato di conservazione della città che sia ad esempio per tutto il mondo. Grazie per la visione!